che dei diritti umani a certe persone gli interessa un giorno sì e l'altro no. Soltanto sulla base di chi sono le persone a violare. Se pensa a questo signore di mettermi sotto senza argomentare, è cascato male, può anche tornare a Detroit, Washington e rispetti il paese. È la prima forza politica del paese senza fare quelle scenate ridicole e irrisibili. Rispetti, perché ospite in questo paese il rispetto. Perdonate, ma lei non può negare che la politica è spiattito. Prendiamo il punto politico. Il punto politico, vado su.